Siamo con Antonella Franciosi, la candidata a sindaco per la Spezia. Sono candidata per Italia Viva e il Partito Socialista in una lista che abbiamo deciso di chiamare Spezia Riformista per costituire un terzo polo che si schiera contro il centrodestra guidato da Peracchini. Riteniamo che abbia malissimo amministrato Spezia, che sia stato un sindaco che ha portato la città all'immobilismo. Con il centrosinistra non è stato possibile trovare un accordo. Ci siamo trovati esclusi da qualunque coinvolgimento nella scelta della candidata a sindaco, ma anche senza mai poter affrontare un nodo programmatico. Noi riteniamo che il campo progressista da solo farebbe vincere Peracchini alle elezioni al primo turno. Non è questo quello che vogliamo. Quindi abbiamo pensato che fosse molto più utile raccogliere anche i voti di coloro che non si riconoscono né l'immobilismo di Peracchini e che sono spaventati dalla paralisi che potrà portare un'eventuale vittoria di una coalizione costruita solo sulla base, sulla ricerca di un candidato, anziché su una concordia di programmi. I punti importanti per amministrare la città nei prossimi cinque anni saranno assicurare agli spezzini una buona sanità, che oggi non c'è. Non è solo questione dell'ospedale, è questione anche della sanità territoriale, i servizi del welfare municipale. I cittadini non possono essere abbandonati nel momento di bisogno. C'è bisogno di recuperare anche la storia della Spezia attraverso la storia dei suoi quartieri. E poi c'è da riallacciare i rapporti con il cito produttivo. La città non cresce e non cresce perché l'amministrazione non è in grado di sollecitarla, di aiutarla e di sostenerla.